Guarda come cazzo, come cazzo sono, sono pacifici, sono collaborativi, ma cos'è? Cos'è tutta questa collaborazione qua? Oh! Nice! Vieni con me! Niente. Un colpo! Gli ho sparato 50 colpi in petto, mi ha ucciso con un colpo in testa, non sa nemmeno lui come. High level dodge proprio. Cazzo, non mi lascia nulla questo. È time to ju-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu lucky. Lucky. Ciao! mamma mia ragazzi too much power mamma mia lascio un cazzo guarda qua 1 0 4 è l'unica kill l'ho presa per conto mio che abc di merda che bel game needn 0 afk gg e beh 0 l'abbiamo mandata noi afk bella raga what the fuck mia niente mamma mia sta puttana ho e ho detto tutto e ho detto tutto niente così la mettiamo e 2 e 3 vai morto il team ragazzi quanto sono forte ciao si comunque controfiore è una palla mortale con singed cioè mi countera easy sinceramente conferma sarà veramente difficile alla lane poi se la lancio sui vital era il magico flash sul posto ragazzi ho visto bene ambulanze non mancano mai ma si ma vediamo ciao raga e singe del bullo della top lane è lui io non ho ancora un'arma se c'è il piano e raccogli tutto raccogli raccogli era suo è una fiore è un champ da late eh ho capito è singed ma che cazzo fa sta puttana oh fai schifo al cazzo ti ha mai detto guardate il danno il deathfire touch che mostra l'onnipotente dps è stata brava stavolta però basta la bravura si ferma qua vieni vieni puttana di merda dai dimmi che ci muore che palle è rimasta senza vita e vabb e cos'era quella q comunque sta fiore fa schifo al cazzo giocare ma tanto proprio è partita no basta era soltanto l'ulti intimidatoria questa ma ora vi faccio la finta a rivederci singed è il bullo della toplin c***o gente c'è madonna il cecchino raccogli napoli napoli ecco e poi madonna preso in pieno a nino nino ambulanze simulator ragazzi solo qua da me grazie bro del chub adesso leggo ti dedicherò questa kill nel caso riuscisse a farla ma ce l'hai steel no che non ce l'ha sta puttana dai che palle non mi dì che è più veloce di me c'ho il ghost tra poco se non ha flash la prendo ho rotto il cazzo tanto mo ghost anzi forse non serve nemmeno si vaffanculo guarda ecco no easy raga non avete capito proprio un cazzo dalla vita eh non avete capito proprio un cazzo quanto cazzo è forte singed raga non c'è poco da fare c'è poco da fare mi sparono dai palazzi ma che problemi hanno perché questo è sdraiato qua cosa sta facendo attenzione la confusione assale tutti a pezzo de merda che cazzo vuoi fa eh eh la e la vuoi tirare la e o no ah ando vai ando vai ando vai perché è così veloce sto cosa qua vabbè poco male minchia raga minchia fiora sei morta in realtà non serviva a ultare ma tanto non è che abbiamo call down to così alto fiora fiora sa fiora sa dominating singed raga il team sta distruggendo prendetelo prendetelo eh ah ma non c'avevo il gas aperto what the fuck vabbè ma non c'avevo il gas aperto docce vai ho salvato la di carry eh mi sa che questo è gg ragazzi questo è gg top damage il vero api carry chi è il vero api carry qua eh ari del cazzo chi è il vero api carry qua tutto quello che mi serve aah ma che cazzo di partite ci stanno oggi oh io comunque non trovo i caschi mi fanno gli headshot e grazie al cazzo non c'ho il casco anche prima i caschi dove cazzo sono napoli proprio napoli simulator manco i caschi ci sono don't you trust me don't you trust me